NAPOLI CENTRALO 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 di intensità, ho visto avvicinarsi tutta l'equip e poi come se uno passasse dal dormiveglia al sonno è scomparso ogni dolore, perché non ho avuto sicuramente la sensazione che il cuore si fosse fermato, che ero morto, ho cominciato a sentire come una leggerezza e cominciavo a scendere piano piano, però come, non so se vedi una foglia quando cade lentamente così e io mi muovo, buio pesto, buio buio buio, finito il dolore, a un certo punto comincio a vedere in lontananza una luce, molto forte, ma non era la luce di un flash, era una luce di un riflettore calda abbagliante quasi, sono entrato in questa luce, non ho capito nulla, però ho visto, da questa luce è venuto fuori il busto di mio padre che era morto 32 anni prima, che mi ha preso e ha detto su dammi la mano, vieni ti accompagno io, saranno passati non so, secondi, minuti, ho sentito il rumore di qualcosa che cadeva ed è ripreso il dolore, immediatamente, ho aperto gli occhi e ho trovato il medico, l'equipe medica che era tutti intorno a me, il medico coi due elettrodi in mano, babbo salernitano, napoletano, mi ha detto ti ha macchiappato per i capelli, ti abbiamo preso per i capelli. Non c'è stato uno stacco, un passaggio, mi sono semplicemente ritrovato, mi sono ritrovato in un altro posto, praticamente mi trovai in questo prato, che poi in realtà esiste davvero, cioè quel posto che ho visto esiste nella realtà ed è praticamente il prato che c'è davanti casa dei miei nonni materni, in pratica era come se l'erba fosse fatta di luce, difficile da spiegarlo, però era luminoso ma non accecante, allora mi ritrovo per questo prato inizio a camminare, sono tranquillo, non ho paura, è come se in qualche modo comunque sapessi di stare al sicuro. In lontananza c'è una specie di collinetta, da questa collinetta veniva una luce come se fosse una specie di aurora boreale che si muoveva, pulsava ed era di colore tra l'azzurro e il bianco, detto così ma in realtà è difficile anche lì trovare le parole giuste per spiegarlo. Mi incamminai verso questa collinetta, a un certo punto alla mia sinistra c'era un uomo che mi prese la mano nella sua mano, quindi con la sua mano a destra mi prese la mia mano da bambino piccolo e mi prese la mano. Ancora oggi mi ricordo di vederlo alla mia sinistra, ma era più alto di me, ero bambino, quindi vedevo praticamente la mia mano nella sua mano, non lo stavo guardando in faccia, però sapevo che era mio nonno materno, Mario, che non ho mai conosciuto, a dire la verità. Però era lui, sicuramente era lui, è come se in qualche modo ci fosse un ampliamento della conoscenza per cui non c'è bisogno di spiegare, di raccontare, sai già tutto. Andiamo assieme verso questa collinetta, inizia la salita, lui mi lascia però la mano e va da solo su questa collinetta verso questa luce e io in pratica, come si dice Roma, stavo rosicando, volevo andare con lui e in qualche modo mi disse, ma senza utilizzare comunque parole, in forma, diciamo, di sentimenti che in qualche modo ti danno un'idea, la definiremo telepatia e praticamente mi disse che ancora non era il momento, cioè ancora non è il momento. Come lui si iniziò a incamminare per questa collinetta io mi ritrovai nel letto di mia madre col medico che stava parlando con mia madre, mi stavano prescrivendo farmaci, ricovero. Mi sono svegliata, ero nella stanza dell'ospedale, vedevo esattamente il mio corpo sul letto, sapevo che era il mio corpo, io ero in cima al soffitto e la sensazione enorme che ho avuto, meravigliosa devo dirti, il senso di gran libertà finalmente, cioè libera da quello che era il mio corpo che era sul letto e ero lì che oscillavo, proprio mi dondolavo e guardavo giù e vedevo i medici, gli infermieri che erano intorno giustamente a quello che era il mio corpo. La cosa straordinaria, non solo potevo sentire tutti i discorsi che facevano fra di loro, ma potevo anche leggere nelle loro menti, cioè quello che loro pensavano e questo lì per lì non mi sembrava assolutamente normale, quando poi mi sono risvegliata e ho riflettuto ho capito che era stata una cosa straordinaria, ma potevo anche vedere attraverso le pareti, io vedevo il giardino dell'ospedale attraverso la parete, quindi i miei sensi erano assolutamente dilatati, diversi. L'improvviso la stanza dell'ospedale è sparita e mi sono trovata in un tunnel dove andavo volando, devo dire, a grande velocità a un certo punto mi sono trovata davanti questa luce. Questa luce è difficilmente spiegabile con parole umane, era una luce piena di vita, pullulava di vita, pullulava di energia quella luce. Mi sono avvicinata a questa luce e questa luce piano piano molto dolcemente ha cominciato prima ad abbracciarmi e poi ad entrarmi dentro e più questa luce mi entrava dentro, più io sentivo questo enorme amore che mi pervadeva, mi circondava e mi pervadeva. Io potevo essere tutto, sentivo tutto in quel momento, ero l'erba, ero il legno, ero tutto quello che esisteva, ero ovunque, non c'era più il luogo o il tempo, ero ovunque. A un certo punto ho avuto la consapevolezza che non potevo restare, credo che in quel momento la mia anima abbia ululato di dolore, è stato un dolore terribile. La cosa che mi ricordo dopo è di essermi come svegliata, avevo dolori da tutte le parti, ho capito che ero rientrata nel mio corpo e ho iniziato a piangere. Giugno 2004, ore 12.30, PG, anni 60, ieri 28.06, arresto cardiorespiratorio per infarto inferiore, ci racconta di essere stato in paradiso e di aver incontrato la sua mamma. Questa è la prima che è stata fissata sulla nostra agenda. Luglio 2004, ore 18, FC, anni 52, giunge in pronto soccorso per un arresto cardiocircolatorio, rianimato per 15 minuti, con esito positivo. Ci confida un'esperienza fantastica. Il suo corpo era fuori dal corpo, ha visto tutti i momenti della RCP, la rianimazione cardiopolmonare, descrivendo nel dettaglio, ha riferito i nomi dei prodotti farmacologici. Ma, questo è stato il mio commento, ma, perché ancora c'era fascino ma incredulità. Mi sono avvicinata al fenomeno dell'NDE dopo aver lavorato diverso tempo in un reparto di terapia intensiva. È iniziato per gioco, non è carino da dire, però è iniziato per gioco. Abbiamo cominciato, quasi con ironia, a chiedere ai pazienti sopravvissuti all'arresto cardiaco se fossero entrati in un'altra dimensione. Prima erano delle semplici confidenze, poi sono diventate delle vere e proprie interviste a pazienti che erano disponibili nei nostri confronti. Parlare con un medico ti dà delle spiegazioni scientifiche. Noi siamo molto più aperti, siamo più umani nei confronti del paziente, non c'è questo distacco e anche il paziente stesso lo avverte, avverte la disponibilità a parlare di certe cose. Ero sul lettino operatorio, mi sono vista alzare, mi sono vista alzare, mi sono non è che camminavo, ero sospesa. Ero sopra un mobile in alto e da questo mobile vedevo giù la luce della sala operatoria, quel lampadario enorme e tutti i medici sotto che discutevano animatamente. Ho visto che c'era una porta, l'ho aperta e sono uscita, sono uscita da questa stanza. Avrò fatto un passo, due, non di più. E poi ho cominciato a volare, a volare come nei cartoni animati proprio. Roteavo e andavo avanti, ma andavo forte, andavo fortissimo. E da lontano si vedeva un puntino bianco, piccolo piccolo, ma io andavo così forte che questo puntino si avvicinava, si avvicinava. E sono arrivata in cima a questo tunnel c'era una luce incredibile. Quella luce lì, in questo mondo qui non c'è. Io scavalcavo per andare di là. Sapevo cosa lasciavo qua. Io ero consapevole. Però andare di là era una cosa che mi attirava molto. La pace che ho sentito di là è una cosa incredibile. Avevo già scavalcato con una gamba, però dovevo passare l'altra. Non ho sentito voci, non ho sentito niente. Però qualcuno mi ha tirato per un piede. Forte. Io ho provato a scalciare perché proprio volevo stare di là. E niente. Mi sono svegliata un bel po' di ore dopo nel letto, arrabbiata. Grazie a tutti. Grazie a tutti Devo dirti che l'incontro con la prima persona con cui ho parlato direttamente, quindi non letto su un articolo piuttosto che su un libro, per me è stato estremamente forte. Non ho un metro di paragone scientifico per dire in che modo sia stato forte. Perché di fatto ci sono cose che non si possono misurare, ma non per questo sono meno vere. Io dico sempre che non possiamo misurare l'amore che abbiamo per una persona, ma questo non significa che non lo amiamo. Sentivo dal racconto della persona che avevo davanti che tutto ciò che avevo studiato finora. Per quanto riguarda le turbe dei vari neurotrasmettitori, eventualmente responsabili del fenomeno, anche se a livello di ipotesi, probabilmente quelle spiegazioni erano una coperta corta. Cioè la realtà era al di là ed oltre di quello che io ero riuscito, nonostante molto impegno a studiare. Ricordo benissimo mia mamma che era preoccupata e che continuava a chiamare i medici, con i medici che andavano su e giù e che stavano ancora prendendo una decisione. Io a un certo punto, non ti so dire a livello temporale, ma a un certo punto ero nello spigolo alto della stanza, proprio vicino al soffitto. Perché vedevo la mamma così disperata? Mi prendeva una mano e poi mi accarezzava il corpo e poi mi riprendeva la mano e io vedevo benissimo quello che stava facendo e dicevo perché non mi puoi sentire che io sto bene? In quella fase io avevo piena coscienza, stavo vedendo perfettamente tutto quello che accadeva. Stavo bene. La sensazione che io avevo era di pace e tranquillità. Una pace che era difficile da descrivere. Era come sentirsi all'interno del tutto, di far parte del tutto e qui pochi istanti che io continuavo a guardare quella scena mi facevano riflettere del perché e non riuscivo a darmi una risposta. A un certo punto sulla mia destra ho visto come un'apertura. era sferica ed era come, io ho ricordato benissimo, era come all'ingresso di un tunnel, di un tubo e la facciata era di luce, bianca, fluorescente, argente, molto forte. Guardandola non mi recava nessun fastidio. Ricordo perfettamente che se tentavo di portarmi verso ad essa non mi potevo muovere. E se tentavo di riportarmi vicino, diciamo più vicino alla scena che stavo vedendo, non mi potevo muovere. Tutto è finito in un istante. Ricordo di aver riaperto gli occhi in questo letto pieno di cannucce. Avevo sonde dalla bocca, dal naso, avevo dei derenaggi, l'addome. Il primo pensiero che ho fatto è stato questo. Se morire è così, se lasciare il corpo è così, è meraviglioso. Questo è il primo pensiero che mi sono portato avanti poi i giorni successivi. Ti racconterò la storia di un valoroso Er, figlio di Armenio, dischiata Panfiglia. Costui era morto in guerra e quando dopo dieci giorni si raccolsero i cadaveri già putrefatti, venne raccolto ancora incorrotto. Portato a casa, nel dodicesimo giorno stava per essere sepolto. Già era deposto sulla pira quando risuscitò. E risuscitato, prese a raccontare quello che aveva veduto nell'aldilà. Da il mito di Er, tratto dalla Repubblica di Platone. In merito all'NDE bisogna dire un paio di cose. Innanzitutto che si sono sempre verificate. E abbiamo testimonianze scritte di situazioni del tutto sovrapponibili all'NDE riportate dai pazienti attualmente, addirittura fin dai tempi di Platone. Questo è un aspetto molto importante perché i taluni sostengono che le NDE possano essere delle allucinazioni causate da farmaci. In realtà, se si va ad analizzare senza alcun pregiudizio la casistica, si vede come moltissime persone vivono NDE in situazioni in cui non hanno assunto farmaci. E questo anche soprattutto nell'NDE in cui l'utilizzo di farmaci a scopo rianimatorio anestesiologico era quantomeno improbabile. Per quanto riguarda queste esperienze, c'è da fare un altro appunto. Si sono mantenute sostanzialmente conservate indipendentemente dall'epoca storica, dal luogo, dal background culturale e filosofico del soggetto. Gli elementi che erano comuni per noi che siamo stati in una terapia intensiva erano i pazienti cardiologici durante la rianimazione cardiopolmonare e soprattutto di diverse età, fasce di età, ceti sociali, religione, diverse anche le credenze sul fenomeno. Alcuni non ne volevano parlare perché non volevano passare per pazzi. L'ho raccontato parecchi anni dopo quando le cose sono cominciate a divenire accettabili, perché questi non erano discorsi che prima si potevano fare a chiunque. Poi piano piano le persone si sono evolute, hanno cominciato ad interessarsi, non lo so, se no prima dicevano che eri pazza, punto e basta. Per me è cominciato un periodo un po' buio perché non capivo se ero io che ero andata di fuori con la testa o se erano gli altri che non riuscivano a capire. Mi è capitato di conoscere una persona che mi ha fatto vedere dei libri di uno scienziato e aveva fatto delle ricerche. Allora ho provato a leggere un altro libro e poi un altro e poi un altro e poi ho cercato sempre di andare avanti, di documentarmi perché questa cosa qui per me è stata troppo importante. Mentre mi avvicinavo al tempio avevo la certezza di essere sul punto di entrare in una stanza illuminata. Là finalmente avrei capito, anche questa è la certezza, da quale nesso storico dipendessero il mio io e la mia vita e avrei conosciuto ciò che era stato prima di me, il perché della mia venuta al mondo e verso cosa dovesse continuare a fluire la mia vita. La persona quando ritorna, una percentuale che uscirà da circa il 10-20% delle persone che ritornano da un'abolizione di coscienza di qualsiasi tipo, riporta di aver vissuto queste esperienze che sono caratterizzate da circa una quindicina di elementi, alcuni più frequenti, altri meno. Il passaggio di questo tunnel luminoso avvolgente e rassicurante, altri la scalinata, questa scalinata al termine di cui c'era questa luce bianca e le presenze, alcuni vedevano appunto i familiari o gli amici cari, altri vedevano solo, avvertivano la presenza, l'essere luminoso, tanti l'hanno citato. Altra caratteristica che a noi ha colpito tantissimo era il libro aperto della vita, il rivedere in sequenza la propria vita, gli errori, le soddisfazioni e l'amore che è stato lasciato sulla terra. Peraltro devo essere onesto e dire anche questo, attualmente non esiste nessun metodo riproducibile di indagine, né morfologico né funzionale, che possa garantirci in maniera incontrovertibile che queste persone realmente hanno visto quanto dicono. È quantomeno improbabile però, a essere onesti dal punto di vista culturale, che tutte queste persone si siano messe d'accordo e che raccontino tutte delle esperienze che hanno dei tratti tutto sommato in comune, indipendentemente anche a volte dall'età del soggetto. Cioè sostanzialmente un bambino di tre anni potrebbe avere un'esperienza premorte del tutto simile a un uomo di 50 anni. Il febbraio 2005, ore 10, ST, 58 anni, shock cardiogeno, giunge incosciente alla nostra osservazione. Due giorni dopo ci racconta con molta esitazione di aver attraversato un tunnel luminoso e di essere tornato molto malvolentieri. Il ritorno, quasi da tutti, tranne proprio qualche caso, è stato vissuto proprio con dolore, come uno strappo, perché loro di là stavano meglio. E quindi il ritorno di qua era voluto perché c'era il familiare che soffriva, la moglie che piangeva. Quindi non ritornano per loro, ma ritornano per chi sta soffrendo. Ho pianto, ho pianto dalla disperazione, non ci volevo essere. E la cosa che mi ha fatto affrontare il dopo, mi sono resa conto che c'erano due bimbi piccoli, per cui il compito me l'era assunto, il compito doveva essere portato a termine. E questa è stata la ragione per la quale, tutto sommato, credo di aver voluto continuare a vivere. Io posso solo immaginare lontanamente la sensazione di comunione col tutto, di beatitudine che vivono queste persone. Per esempio alcune mamme mi dicono, io mi ricordo che qui avevo i miei bambini, ma io volevo andare verso la luce, perché quella luce era il tutto. Per me è una cosa imparagonabile. Non riuscirei a trovare personalmente un aspetto paragonabile a qualcosa di terreno, perché era talmente uno stato espansivo, ero talmente sicuro di essere io e di essere lì, ma di non avere a che fare nulla con qualcosa di fisico, qualcosa di materiale, che per me personalmente è imparagonabile. Il difficile di questa esperienza in realtà è riuscire a trovare delle parole codificate, perché la parola in realtà nasce per spiegare il mondo circostante, per spiegare quello che uno ha visto dall'altra parte con parole nate per questa parte. Non ci riesco nemmeno io, in pratica era come sentirsi accolti. Fai un lungo viaggio, ti trovi nel deserto del Sara, ti fai un mazzo tanto, giri, e poi torni a casa tua, ti apri una porta, ti trovi la tua famiglia, ti trovi tutti quanti che ti abbracciano, ti trovi a casa. E quella è la sensazione di stare a casa. L'attività della materia vivente, anche se si basa sulle leggi della fisica stabilite finora, presuppone leggi sconosciute, che dovremo scoprire, che costituiscono una parte inalienabile di queste scienze come le prime. Erwin Schrödinger, premio Nobel per la fisica 1933. Ho un'altra testimonianza, che è una signora di 63 anni, per una dissezione aortica, è giunta da noi incosciente. Lei ha confidato di aver sorriso, vedendo tutto quel da fare intorno a lei, nel momento delle manovre rianimatorie. Le sue parole sono state, non sono mai stata più viva che in quel posto. Loro parlavano di aver vissuto fuori dal corpo in un'altra dimensione. Mai nessuno ha parlato di sogno. Mai. I sogni, generalmente, poi, tu quando ti svegli non te li ricordi bene, passa il tempo e te li sei già dimenticati. Io questa cosa me la ricordo perfettamente, non mi ricordo cosa ho fatto dopo. Mi ricordo di essere svegliato, che c'era mia madre del medico, ma se mi chiedi cosa è successo nei minuti dopo, io non te lo so di, non me lo ricordo. Questo ti assicuro che lo ricordo perfettamente, perché l'ho vissuto, è un vissuto, non è un sogno. Chi non crede, dice, eh, tutte quante dicono la stessa cosa, la luce, non esiste. Non mi posso dire, ce l'hai sentito, te lo sei fatto tuo. No, non è così, non è così. L'ho provato veramente. Non si è trattato di un sogno, per la sola ragione che... Ti ho detto che quando sono dovuta tornare indietro, è stato un dolore terrificante. Ti assicuro che, per quanto brutto possa essere un eventuale sogno, ma quello era stato bellissimo, non è possibile provare un dolore così nel sogno. Non ho mai avuto il minimo dubbio in questo, perché la certezza che ero io era totale. Anzi, questo ha rinforzato in me la certezza che non siamo solo fisici. Perché sentivo che io, in quel momento, ero in grado di vivere quello stato che era diverso dal corpo che conoscevo. L'espressione esperienza extracorporea, nota anche con la sigla OBA dall'inglese Out of Body Experience, sta a indicare tutte quelle esperienze la cui interpretazione rimane controversa, nelle quali una persona percepisce di uscire dal proprio corpo fisico, cioè di proiettare la propria coscienza oltre i confini corporei. Vedi, noi abbiamo sempre pensato che la coscienza sia prodotta dalla parte più esterna del cervello. La parte più esterna del cervello si chiama come la parte più esterna dell'albero, corteccia. E noi riteniamo che il funzionamento coordinato di miliardi di neuroni della corteccia produca il fenomeno coscienza. Se noi diciamo che ogni sensazione, ogni colore che vediamo, ogni odore che sentiamo, ogni rumore che percepiamo, corrisponde a una modificazione neurochimica, diventa estremamente più difficile spiegare come per esempio una persona durante un intervento chirurgico con gli occhi chiusi, perché generalmente vengono chiusi, riesce a dire che è passato nel corridoio l'infermiere con i capelli biondi, piuttosto che l'anestesista si è allontanato dalla sala per andare a prendere una cartella o ancora che in sala d'attesa, mentre è successo l'intervento, è successo questo, questo e questo. E quello che è ancora più sconvolgente è che questi racconti trovano in molti casi, non posso dire in tutti, ma in molti casi delle testimonianze da parte di persone che là in quel momento erano. Ricordo per esempio un caso piuttosto noto in letteratura di un paziente che disse che sul tetto dell'ospedale c'era una ciabattina rossa. Lui in quell'ospedale non c'era mai stato, obiettivamente il tetto non è un luogo accessibile. Sono andati a controllare e hanno reperito la ciabattina rossa. Ora, questo lo possiamo anche attribuire a una mera coincidenza, però dal punto di vista probabilistico è quantomeno improbabile. Io volevo citarvi questo signore che è professore di musica, cieco dalla nascita, è giunto da noi per una aritmia minacciosa da fibrillazione ventricolare. Sono state fatte le manovre rianimatorie e dopo qualche giorno ha raccontato con grandissimo stupore degli operatori una visione a colori. Ci ha descritto nei minimi particolari, ci ha visto cosa indossavamo, il bracciale addirittura ha descritto al polso di un anestesista. La mia genitrice è stata la prima alla quale ne ho parlato, anche perché a lei ho spiegato esattamente dove era, esattamente quello che stava facendo, dove erano i medici, quanti erano. E lei, sballordita, diceva è impossibile che tu possa spiegare questo, perché eri ormai nelle condizioni che eri più morto che vivo. Lei usava questa espressione in maniera molto semplice, eri più morto che vivo. Questa strada ha un cuore. Se lo ha, la strada è buona. Se non lo ha, non serve a niente. Entrambe le strade non portano da alcuna parte, ma una ha un cuore e l'altra no. Dagli insegnamenti di Don Juan, di Carlos Castaneda. A onor del vero, le auto body experience non sono dei fenomeni legati esclusivamente alle esperienze premorte, ma fanno parte di una serie di esperienze che potremmo chiamare dissociative. Esperienze che possono essere vissute, per esempio, durante la meditazione a livelli particolarmente intensi, o piuttosto anche nell'ambito dello sciamanesimo, con l'utilizzo delle cosiddette piante maestre. Il termine piante maestre assume un significato diverso in relazione alla cultura in cui ci caliamo. Pianta maestra, per esempio, per la tribù di Ibiti nel Gabon, significa iboga. Per alcune tribù della foresta amazzonica, pianta maestra può significare ayahuasca. Piuttosto che nei racconti, per esempio, di Castaneda, con lo sciamano Dongguan, pianta maestra, significa peyote piuttosto che datura, piuttosto che stramonio. Queste piante venivano chiamate maestre per la loro capacità di insegnare. Insegnare in che senso? Capacità di allargare la coscienza. In queste culture molto antiche, queste piante servivano allo sciamano per entrare in contatto con il mondo dello spirito. e quindi alcune auto body experience potevano o possono essere vissute anche da persone che fanno esperienze con questo tipo di piante. Nella tradizione buddista, io parlo in particolar modo nel buddismo tibetano, che è la tradizione di cui io faccio parte. Esistono tecniche di meditazione principalmente che vengono chiamate la meditazione del sogno. Sono tecniche di essere consapevoli durante i propri sogni e in questo modo di direzionare la mente. E ci sono anche tecniche all'interno di questo per uscire dal corpo, con quello che viene chiamato il corpo mentale, che è il corpo del sogno e poter uscire dal corpo fisico e poter andare in certi luoghi, eccetera. Quindi quello che esistono sono meditazioni nel quale uno va a simulare il processo della morte in modo da familiarizzarsi con quel processo per dopo poter essere consapevole durante la vera e propria morte. Questo fa parte di questa preparazione anche tecniche in cui uno può uscire dal corpo. Esiste una storia di un maestro, per esempio, una delle storie che mi ricordo di praticanti buddhisti che facevano questo, per ragioni molto pratiche poi, si chiamava Buten Tam Chekhenpa ed era un grandissimo studioso ed era molto comune in Tibet memorizzare tante tesi, parliamo di XIV secolo o qualcosa del genere. Lui cosa faceva? Apriva i testi libri tibetani non sono rilegati, quindi prendeva 50 foglie, aveva la doppia coppia di libri, metteva fronte e retro, fronte e retro in una stanza, 50 foglie, quindi 100 pagine, andava a dormire, la stanza chiusa, durante la notte usciva dal corpo, memorizzava quelle 50 foglie e al mattino ce le aveva tutte memorizzate e questo faceva tutte le notte. È stato un grandissimo studioso, ha scritto più di 100 volumi di libri, di trattati tra filosofia, medicina, meditazione, ha scritto di tutto e di più. Comunque fatto sta che esistono diversi racconti di persone che avevano questa capacità di uscire dal corpo. Per quanto riguarda le out of body experience nell'ambito della meditazione, dal mio punto di vista vale il medesimo discorso. Ora, se queste persone riescono a vedere e a trovarsi in situazioni in cui fisicamente non sono, probabilmente un modello che vede coinvolti esclusivamente i neurotrasmettitori nella formazione della coscienza, probabilmente è inadeguato perché queste cose non si possono spiegare con questo modello. Gli uomini o cercano di mettersi a riparo dalla morte come ci si mette a riparo da una bestia feroce in libertà, oppure la affrontano, ma in questo caso sono ridotti unicamente alla loro forza, al loro coraggio, in un confronto silenzioso, senza l'aiuto di una società che ha deciso una volta per tutte che la morte non la riguarda. Filippe Ariès, storico. Io trovo che la serie di testimonianze e l'incontro anche di queste persone che hanno vissuto la stessa esperienza possano essere una fortissima terapia, soprattutto in ambito oncologico. È un accompagnamento più sereno, fa meno paura e quindi io credo che queste persone diventino veramente il simbolo di una terapia. È come portare una persona in una stanza buia e non sapere da che parte è l'uscita e noi insieme, attraverso questi racconti, cominciare ad accendere qualche lampadina. Metteremo nelle condizioni di questa persona di vedere dove ci saranno le finestre, dove c'è stata la porta al che siamo entrati, secondo me è molto, molto, molto positivo. Con mia sorella, che praticamente è morta di tumore, quindi ha avuto alcuni mesi consapevole, sapeva esattamente che cosa aveva e sapeva ciò che l'attendeva. Abbiamo avuto un dialogo che non è stato tanto di parole, perché lei conosceva già questo mio vissuto, gliel'avevo raccontato, ma è stato un dialogo fatto d'amore, proprio di gesti fisici d'amore. Le prendevo le mani, gliele stringevo, la stringevo a me, l'accarezzavo, condividevo le sue difficoltà di quel momento. Credo che sia giusto testimoniare queste esperienze, perché la morte non ha ragione di far paura. Non dico che non ho paura. Il rapporto è cambiato, non è più il terrore della morte. D'altronde, se è venuto papà prendermi per la mano, passerò all'altra parte. La paura della morte, in qualche modo, è un grande business, perché muove il mercato della chirurgia estetica, dei medicinali, rende le persone schiave di determinati personaggi che possono in qualche modo influenzare il loro modo di pensare, il loro modo di porsi. La parola morte fa paura, ma la morte non esiste, è un'altra dimensione. Dietro la porta c'è un altro mondo. La verità nasce come paradosso e muore come ovvietà. Arthur Schopenhauer, filosofo. Il mondo normale, le persone normali, con il tempo ho imparato quasi a non condividere un'esperienza di questo genere. Perché? Perché se non vissuta in prima persona o comunque non avendo avuto la possibilità di avvicinarsi a questi aspetti, chiamiamo così, un po' diversi dallo stato materiale delle cose, è un po' complicato da capire, per cui ho sempre nel tempo, in un certo senso, benevolmente evitato. Certo, c'è ancora qualcuno che ogni tanto ci prende in giro, sono stata anche offesa, anche da personalità, ma come fanno loro a dire che non esiste se loro non l'hanno visto? Quindi tutti quelli che raccontano queste cose rimangono nel mistico, nel magico o nel termine che uso io, il cazzarismo. E questo sinceramente non è una cosa secondo me sana, perché in realtà queste esperienze esistono, vengono studiate. Sarebbe giusto che rimangano per quello che sono, cioè esperienze mediche, al limite posso capire psicologiche, ma comunque devono essere studiate in un'ottica medica, non in un'ottica magica. Parlando con un cardiochirurgo, ho fatto una domanda che significato poteva avere nella bocca di un paziente la parola morte. Lui mi ha dato una, ma no, ma la morte, la morte è la cessazione delle attività vitali. E a me ha deluso, forse perché si discordava molto da quella che era la mia definizione, che tra l'altro era cambiata nell'arco degli anni, ma proprio perché avevo seguito queste testimonianze. E tu pensa, cioè per me la morte è l'addormentarsi consapevoli, cioè questa è la mia definizione oggi. Sembra che l'uomo moderno abbia più paura della morte di quanta probabilmente non ne avesse nell'antichità. Un esempio è il libro tibetano dei morti, in cui viene descritto tutta la fase della morte e del passaggio dell'anima. Nella tradizione del buddismo esiste uno studio molto approfondito sul processo della morte e sull'esperienza personale che una persona ha durante questo processo. Quindi che cosa avviene esteriormente, man mano che gli elementi si dissolvono, e cosa avviene interiormente alla persona che sta morrendo. Perché è importante prepararci per la nostra propria morte, in modo che quando arriva questo momento sappiamo quello che sta accadendo e quindi non prendiamo paura. Esiste una grande paura di andare allo sconosciuto, di affrontare qualcosa nella quale uno perde la propria identità, o almeno così lo vedi. E quindi sin da sempre si è parlato dell'immortalità in un modo o in un altro. Poco tempo fa ho letto anche un giornale di scienza scientifico e c'era la copertina che diceva nell'anno 2050 l'essere umano non morirà più di vecchiaia. La medicina, o una parte della medicina, vede la morte come una sconfitta, quando in realtà è semplicemente la fine della vita. Probabilmente il viaggio più lungo che possiamo affrontare non è quello che ci porta verso Marte, ma quello che ci porta a comprendere noi stessi. La mia visuale comprendeva tutta la Terra. La sua forma sferica era chiaramente visibile e i suoi contorni splendevano in un bagliore argenteo, in quella meravigliosa luce azzurra. In molti punti il globo sembrava colorato, o macchiato di verde scuro, come argento ossidato. Sulla sinistra, in fondo, c'era una vasta distesa, il deserto giallo rossastro dell'Arabia, come se l'argento della Terra in quel punto avesse preso una sfumatura di oro massiccio. Più tardi mi informai dell'altezza a cui si dovrebbe stare dello spazio per avere una vista così ampia, circa 1500 chilometri. La vista della Terra a tale altezza è la cosa più meravigliosa che avessi mai visto. Da quel punto in avanti si riconsidera tutta la propria vita, no? Ma soprattutto la propria scala valori. Io in quel periodo avevo una splendida casa, avevo le persone che mi aiutavano nella gestione domestica, avevo tante di quelle cose, però erano rimaste di qua quando io ero lassù. A questo punto ovviamente poi si comincia a fare delle considerazioni, no? Se realmente vale la pena di spendere tanto tempo, tanta energia, tanta fatica per conquistare il conquistabile, che poi dobbiamo lasciare qui. Posso anche dire che alcune persone hanno avuto degli effetti quasi immediati, che sono stati proprio una rivalutazione della vita, con la ripromessa di cambiarla, di renderla più umana. Io sono partito da morto praticamente, quindi questo in realtà mi ha portato ad essere un bambino sicuramente diverso. Cioè per me era normale cercare di sapere, mentre per i miei amici magari era normale trovare il modo di stare con una ragazzetta più carina, per me era più normale cercare di capire, di legge, di informarmi, di aiutare gli altri. E quindi mi rendo conto in qualche modo di essere in una gaussiana, di essere comunque ai limiti. Nel tempo ho avuto grande consapevolezza dello strumento che abbiamo come corpo. Siamo all'interno di una struttura che ci fa vivere in questa dimensione terrena, ma noi siamo veramente un qualcosa di luce all'interno. Ragioni di più per trattarlo bene, per coccolarlo, per tenerlo sano. E per cui questo ha fatto cambiare in me tante tante prospettive, anche nella mia vita personale, nella mia vita quotidiana. La mia recente esperienza ha leggermente indebolito la mia convinzione che la mia morte sarà la mia fine, nonostante io continui a sperare che lo sia. Così si espresse Sir Alfred Jus Ahe, filosofo positivista e ateista convinto, a proposito della sua NDE nel 1988. Io se ti dico sono cattolica, ma è un modo strano di essere cattolico, perché io a messa non ci vado. Però io credo che comunque di là c'è qualcosa, e c'è qualcuno, e c'è una vita. Questo non so se fa di me una credente al cento per cento. Credo nel sacro, ma non credo nel rito. Cioè per me esiste una religiosità, ma non è legato a un particolare rito. Io riesco a fare incavolare mia madre il venerdì santo, facendomi certe belle bistecche, quando si dovrebbe mangiare magro, per me è una bella bistecca. Non penso che si offenda nessuno. Domani non dovrei certo rendere conto di quella bistecca. Sono credente, diciamo, non praticante. Io perché da divorziato non posso ne comunicarmi, adesso forse sì, perché il Papa è... ma ogni anno vado da Padre Pio giù a Pietralcina. Se sono religioso, sentiamo nel concetto di significato di questa parola, sì. Perché religione significa rilegare, significa ricollegare, significa aggiungere e avvicinare le cose. Nella medicina classica cinese non esiste una distinzione netta tra corpo e spirito. L'essere umano è un tutt'uno con l'universo e soggiace alle stesse regole dell'universo, di cui è parte. La teoria che si presta meglio a spiegare il fenomeno coscienza è quella cosiddetta quantistica. Secondo questa teoria, la coscienza potrebbe anche trovarsi altrove ed essere captata dal cervello, nella stessa maniera in cui una radio può captare un'onda radio. Se questo fosse verificabile, potremmo spingerci ad affermare che la coscienza potrebbe sopravvivere anche alla morte del cervello. Un po' nella stessa misura in cui, per esempio, se sto ascoltando della musica su una radio e la radio si rompe. Io non sento più la musica, ma non posso affermare che la musica non esiste più. Posso non riuscire più a percepire le onde che la veicolano, ma non posso neanche affermare che non esistano solo perché io non le percepisco. Parlando della coscienza parliamo di un argomento che si trova al limite tra varie discipline, probabilmente per avere qualche risposta in più in merito al fenomeno delle esperienze premorte, ma non solo, anche in merito a ciò che siamo veramente e quelli che sono i grandi quesiti probabilmente della nostra esistenza. L'unica strada percorribile è quella prospettata già a metà dell'Ottocento da un collega francese che immaginava un giorno in cui il fisiologo, il poeta e il filosofo parleranno la stessa lingua e si comprenderanno. Non ho mai detto che sia facile, però penso sia l'unica strada. I destini dell'uomo sono come i fiumi. Alcuni scorrono veloci, senza incertezze, lungo facili percorsi, altri passano attraverso mille difficoltà ma arrivano ugualmente al mare. La meta finale è uguale per tutti. Romano Battaglia 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 Grazie a tutti.